La polizia di Ragusa ha denunciato 34 persone che utilizzavano sostanze dopanti per alterare le prestazioni agonistiche. Il fenomeno del doping tra i finti atleti dilettanti interessava anche le province di Siracusa e Catania. Il manager dell'ASP7 di Ragusa, Rico, questa settimana non verrà ascoltato dalla commissione sanità dell'ASP. Sulla vicenda che ha portato l'imprenditore Giuffre a sospendere la donazione rischia di calare il silenzio. Il GIP di Ragusa Maggioni ha convalidato e mantenuto gli arresti domiciliari delle cassiere di una banca di modica, accusato di aver truffato un imprenditore. Le indagini continuano per capire se ci sono altre vittime. I problemi relativi a Donna Lucata sono stati al centro di un dibattito. si è svolto nel centro di incontro a coordinare i lavori insieme al presidente della struttura è stato Pierluigi Aquilino. Buongiorno a tutti voi. La polizia di Ragusa ha denunciato 34 persone che a diverso titolo utilizzavano sostanze dopanti per alterare le prestazioni sportive. L'indagine è nata da un anonimo ciclista della domenica, stanco di essere umiliato dai compagni d'uscita. Sabato a Chiara Montegulfi l'epilogo dell'attività d'indagine sotto un vero e proprio nubifraggio. Il fenomeno del doping tra finti atleti ha interessato anche le province di Catania e di Siracusa. La cronaca. La polizia ha concluso un'articolata indagine su 34 soggetti che a vario titolo sono indagati poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistavano, detenevano, offrivano e cedevano farmaci doni a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche e reati previsti dalla legge antidoping. L'indagine ha preso il via dalla denuncia di un atleta stanco di essere umiliato tutte le domeniche dai suoi compagni d'uscita che ha deciso di scrivere una lettera alla procura della Repubblica di Ragusa. La lettera era molto dettagliata con nomi, indirizzi, quantità e tipologia di farmaci utilizzati dai finti atleti. La squadra mobile di Ragusa ha effettuato 10 perquisizioni domiciliari che tra il 2013 e il 2014 hanno permesso di sequestrare centinaia di confezioni di sostanze dopanti che venivano usate anche per le uscite della domenica con gli amici. La conferma dell'uso delle sostanze è stata confermata anche dalle intercettazioni telefoniche. Gli indagati, utilizzando un linguaggio criptico, si rifornivano da altri pseudo-atleti dilettanti o da negozianti specializzati in vendita di biciclette che procuravano sostanze vietate. Tra i fornitori anche un'infermiere di Ragusa che si occupava di procacciare medicinali senza ricetta e in molte occasioni allestiva un ambulatorio per permettere agli amici di fare delle flebo con le sostanze dopanti. Le intercettazioni hanno permesso di appurare che quasi tutti i soggetti dopati non riferivano alle famiglie di fare uso di sostanze vietate. Addirittura uno degli indagati si preoccupava della moglie in quanto era stato colto in flagranza dalla loro bambina. Le indagini hanno poi permesso di estendere l'attività investigativa a soggetti delle province di Catania e Siracusa. Alcuni sono sospettati di avere preso parte a competizioni sportive con tesserini di atleti puliti al fine di vincere alcune gare al nord Italia. Tra gli indagati vi sono anche i presidenti di alcune squadre di dilettanti che in occasione delle gare fornivano supporto logistico. La squadra mobile, dopo avere raccolto elementi di prova schiaccianti, ha deferito alla Procura della Repubblica 19 ragusani, 9 siracusani, 5 catanesi e un regino. L'epilogo si è avuto sabato pomeriggio a Chiaramonte all'inizio di una corsa ciclistica per dilettanti valida per il trofeo regionale dodicesima edizione del Santissimo Salvatore. Non appena partiti tutti i concorrenti, gli uomini della squadra mobile insieme ai medici sportivi designati dalla Procura antidoping del CONI di Roma si sono avvicinati all'arrivo per attendere i soggetti sospettati di avere assunto sostanze dopanti. La Procura antidoping e i medici federali hanno effettuato sette controlli e i campioni di urina prelevati con l'assistenza della Polizia sono stati inviati a Roma per le approfondite analisi. I risultati arriveranno a giorni. Ieri mattina invece la squadra mobile ha atteso l'arrivo dei partecipanti alla gara podistica al Filippide. Alcuni partecipanti sono stati condotti presso le loro abitazioni e a casa di un 38enne ragusano sono state trovate decine di medicine classificate come dopanti. La Procura, ultimate le indagini di laboratorio sulle urine degli atleti, procederà a segnalare alla squadra mobile di Ragusa quelli positivi, che saranno poi denunciati e processati per frode in competizione sportiva. Cambiamo adesso argomento. Parliamo di due bandi regionali per trovare un lavoro a chi il lavoro lo ha perso nel corso del 2014. Si tratta di 35 milioni di euro che troveranno un posto di lavoro a 1.500 persone e questi bandi riguardano anche la provincia di Ragusa. Sentiamo Emiliano Di Rosa. In un contesto drammatico come non mai per il lavoro in Sicilia la regione prova a dare qualche notizia che induca all'ottimismo. Intanto vi sono 167 milioni di euro per la presentazione di progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo e finalizzati ad attività formative per rafforzare l'occupazione. Il relativo avviso verrà pubblicato il 14 di agosto. La comunicazione è dell'assessore regionale alla formazione e all'istruzione, Mariella Lobello, che afferma che l'intervento verrà condotto mediante 1.200.000 ore di formazione destinate ai disoccupati. I percorsi formativi saranno svolti dagli enti di formazione accreditati secondo il nuovo regolamento appena firmato dal presidente della regione. L'assessorato al lavoro invece comunica l'avvio di un corso di formazione e di un tirocinio retribuito con 600 euro al mese per chi è finito in mobilità o in cassa integrazione nel 2014. Il bando è stato appena pubblicato. Stanze a 35 milioni di euro per trovare nuovi sbocchi per almeno 1.500 persone fra i lavoratori più colpiti dalla crisi. Saranno le agenzie accreditate dall'assessorato regionale al lavoro per il piano garanzia giovani a canalizzare i finanziamenti di questo bando. Circa 18 milioni di euro vanno a Catania, 11 milioni e mezzo a Palermo e poi una media di un milione per tutte le altre province. A Ragusa sono destinati 915.000 euro. Al bando dovranno rispondere entro il 15 di settembre le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione iscritti nella long list regionale per garanzia giovani. L'obiettivo commenta l'assessore regionale al lavoro Bruno Caruso e fare uscire questo personale dal bacino degli ammortizzatori sociali e introdurlo in nuovi ambiti di occupazione. Parliamo adesso di immigrazione perché sono 450 i migranti giunti nel porto di Pozzallo a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera. Erano a bordo di 4 diversi gommoni che trasportavano rispettivamente 116, 124 e 105 persone. Intanto il giudice per le indagini preliminari di Ragusa Claudio Maggioni ha convalidato questa mattina l'arresto del presunto scafista di 21 anni a Leghi Fragredin. Il giovane è comparso in carcere davanti il magistrato che ha deciso anche per il mantenimento della misura cautelare presso l'istituto penitenziario ragusano. Erano 381 i migranti sbarcati a Pozzallo dopo essere stati soccorsi dalla nave Fiorillo. Mediamente i migranti avrebbero pagato 2 mila dollari ciascuno, quindi all'organizzazione criminale sono andati circa 650 mila dollari. Cambiamo adesso argomento sul caso che ha coinvolto l'imprenditore Giuffre che avrebbe voluto donare 2 milioni di dollari all'ASP. Il manager della struttura sanitaria a Ricco non sarà sentito dalla Commissione Sanità all'ARS come programmato per questa settimana. Probabilmente ci sarà una semplice interlocuzione con l'assessore al ramo. Intanto però su questa vicenda rischia di calare il silenzio. Sentiamo di Rosa. Nessuna audizione domani alla Commissione Sanità dell'ARS per Maurizio Aricò, il direttore generale dell'ASP 7 che si è fatto sfuggire per ora una donazione di 2 milioni di dollari causa troppa anticamera fatta fare a mister Pippo Giuffre che rappresentava l'associazione new yorkese Amici di Ragusa e alla Sanità Iblea voleva dare i soldi. I lavori della Commissione Sanità infatti come delle altre in questi giorni ferragostani sono fermi. Quindi è probabile una convocazione nei prossimi giorni ma in assessorato. Dovrebbe essere direttamente l'assessore alla salute Baldo Gucciardi a farsi spiegare da Aricò cos'è successo lunedì scorso a Ragusa alla presenza anche del Presidente della Commissione Pippo Di Giacomo che stamattina dice una brutta vicenda quella che ha coinvolto Giuffre ma dietro c'è altro perché trattasi dell'elemento apicale di una serie di lamentele e di problemi di scarsa comunicazione tra Aricò e chi lavora nella Sanità Iblea. Una sorta di incompatibilità tra il manager e il territorio dove opera. La vicenda ha tenuto banco per tutta la scorsa settimana e l'opinione pubblica si è schierata nella stragrande maggioranza contro il direttore generale. Ora è da vedere e capire se e quali provvedimenti verranno presi perché siamo sempre in mano alla politica siciliana e siamo a cavallo di ferragosto. Due condizioni ideali per fare cadere anche questa storia nel dimenticatoio. Il GIP di Ragusa Maggioni ha convalidato e mantenuto gli arresti domiciliari del cassiere della banca di Modica accusato di aver truffato un imprenditore modicano. Intanto le indagini continuano per verificare l'esistenza di altre vittime. Resta agli arresti domiciliari il cassiere della filiale di Modica Centro della Banca Agricola Popolare di Ragusa 46enne originario di Francofonte. L'uomo è comparso davanti al GIP di Ragusa Claudio Maggioni e ha praticamente ammesso tutte le contestazioni senza però dare una spiegazione plausibile alle sue trattenute sui versamenti eseguiti per conto di un imprenditore che gestisce un'agenzia non solo di assicurazioni. Il magistrato ha convalidato il provvedimento restrittivo e lo ha mantenuto. Gli agenti del commissariato proseguono intanto le indagini per capire se l'imprenditore truffato sia l'unica vittima del cassiere o se ce ne siano altri sperando magari che arrivino sul tavolo della dirigente Maria Antonietta Malandrino altre denunce. Dopo l'arresto la polizia oltre a 2000 euro rinvenuti nel borsello dell'uomo aveva trovato a casa nascosta sotto il tappeto di una stanza la somma di 2200 euro. Sul conto corrente del cassiere inoltre dalle indagini certosine risultano degli accrediti nei mesi di maggio giugno e luglio per complessivi 19 mila euro con la dicitura bonifico interno che non è apparso congruo rispetto alla situazione patrimoniale dell'interessato. In particolare ritornando alla denuncia che ha portato all'arresto sono due al momento i versamenti sotto la lente di ingrandimento quello del 31 luglio. Il correntista aveva consegnato 16 mila 400 euro fra contanti assegni e quello del 6 agosto 46 mila 812 euro. Nel primo caso il versamento di fatto eseguito fu di 14 mila 400 euro nel secondo 44 mila 512. Ritorniamo alla pagina di cronaca perché i carabinieri hanno denunciato per furto di energia elettrica aggravato in concorso quattro acatesi perché avrebbero alimentato allacciandosi abusivamente alla rete Enel il Luna Park. La struttura è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica. Invece si è registrato un incidente stradale sulla SP4 che collega Comiso a Gran Michele. Due le autovetture che si sono scontrate per cause ancora da accertare da parte della Polizia Provinciale. A bordo di un Audi A1, una 26N che ha riportato ferite. A bordo invece dell'altra autovettura, una Ford Focus, un 56N che è rimasto illeso. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Provinciale, sono intervenuti i sanitari del 118. Cambiamo adesso argomento, parliamo di tassazione a Scicli. Piovono tasse a Scicli, un acquazzone estivo non certo benvenuto perché non rinfresca, anzi riscalda ulteriormente gli animi dei cittadini. In questi giorni alcune associazioni hanno inviato una lettera aperta alla Commissione straordinaria che regge il Comune dopo lo scioglimento per mafia e hanno chiesto esplicitamente di apportare alcune modifiche alle nuove imposte stabilite dai funzionari governativi e giudicate insostenibili. L'IRPEF, la tassa sulle persone fisiche, è aumentata dallo 0,4% allo 0,8%, il doppio. L'IMU, la tassa sugli immobili, nello specifico sulle seconde case, è lievitata fino all'8,1% e la TARI, la tassa sui rifiuti, non ha fatto eccezione subendo un incremento del 7,7%. Le associazioni hanno fatto due conti. Ogni famiglia dovrebbe pagare circa 200 euro di tasse in più nel corso dell'anno. Se la Commissione straordinaria si è giustificata dicendo che l'aumento è necessario per evitare il dissesto, l'Assemblea delle associazioni ha eccepito che il Consiglio Comunale, prima di essere sciolto, aveva approvato tre bilanci, riconosciuto i debiti fuori bilancio e la loro copertura e presentato un nuovo piano di riequilibrio. In sostanza, dicono dalle associazioni, si poteva evitare di mettere le aliquote al massimo anche perché con la crisi occupazionale che non ha certo risparmiato gli ciclitani e con tantissimi nuclei familiari, ormai sulla soglia della sopravvivenza, 200 euro in più ogni anno fanno male, anzi malissimo. Unico motivo di speranza a questo punto, l'ipotesi al vaglio della Guardia di Finanza che la piattaforma petrolifera vega al largo delle coste iblee e di competenza territoriale di Scicli possa in futuro dover pagare IMU ed ICI proprio al Comune Sciclitano. Al netto delle multe, il Comune incasserebbe più di 11 milioni di euro che consentirebbero di ridurre la pressione fiscale sui cittadini, ma come detto siamo ancora a una fase embrionale in questa vicenda. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Vanessa Ferreri, scrive di avere delle anticipazioni che riguardano le analisi fatte dall'ARPA di Ragusa sulle litorali di Marina di Acate. Secondo queste analisi non vi è alcuna traccia né di idrocarburi né di sostanze fecali e non è nemmeno alga tossica. Il fenomeno di evidenti chiazze nere in acqua al quale i bagnanti hanno assistito ieri è dovuto ad una micro alga non nociva. Appena sarà disponibile l'onorevole Ferreri renderà pubblica anche la relazione cartacea dell'ARPA. Parliamo adesso di un intervento alla CGL a proposito del porto di Pozzallo. Il porto di Pozzallo è la prima grande sfida autunnale per il territorio ibleo, lo scrive in una nota Giovanni Avola, segretario generale della CGL di Ragusa, snocciolando una serie di considerazioni. Intanto che la struttura resta sottoutilizzata sia nel settore commerciale che in quello turistico. E poi ancora non c'è autorità portuale, la gestione di fatto viene affidata alla Capitaneria di Porto, che è autorità marittima e quindi dovrebbe occuparsi soltanto di controllo. E ancora, la CGL torna sulla questione navi da crociera, perché sulla croceristica alle iniziative di CGL, CISL, UIL, del sindaco di Pozzallo e della deputazione regionale è calato il silenzio. Le compagnie interessate hanno reso noto che caos e privilegi consolidati all'interno del porto di Pozzallo non consentono di programmare alcun intervento. Insomma, dice Avola, questa è l'ennesima beffa ed è l'ennesima opportunità persa per il nostro turismo. Per il segretario della CGL, infine, l'appuntamento inderogabile a questo punto è a settembre, quando alle forze sociali e datoriali e alla Camera di Commercio spetterà il compito di fare diventare centrale la vicenda Porto di Pozzallo e al nascente libero consorzio dei 12 comuni Iblei, la necessità di inserirlo al primo posto in agenda. Parliamo adesso delle problematiche di Donna Lucata che sono state affrontate al corso di un incontro. Le problematiche relative alla borgata di Donna Lucata sono state al centro di un dibattito ospitato dal centro di incontro. A coordinare i lavori è stato Perluigi Aquilino che, insieme con i componenti del gruppo, ha raccolto le segnalazioni riferite dai residenti che presto saranno sottoposte all'attenzione dei commissari straordinari nel corso di un apposito incontro. La borgata di Donna Lucata negli ultimi anni sta facendo i conti con un abbandono sempre più preoccupante. Basti pensare che quest'estate il lungomare della zona di Micenci si presenta in uno stato peggiore rispetto agli anni precedenti. In alcuni tratti mancano anche i bastioni di protezione, con grande pericolo per i bambini. La spiaggia di Ponente si presenta abbandonata e poco sicura per i bagnanti, in quanto nella sabbia si trova di tutto. Le passerelle installate in ritardo sono insufficienti, non si estendono lungo tutto l'arenile e risultano essere già fatiscenti. Le docce prive di qualsiasi manutenzione. Copiose perdite d'acqua in alcuni tratti stradali della frazione. La colpa non è certo tutta imputabile alla triade commissariale, ma è con loro che i cittadini sono chiamati ad interloquire in questi mesi, pertanto a loro viene chiesto di intervenire. L'intento del gruppo è quello di portare avanti lo stesso lavoro nelle altre borgate sciclitane. Tra le richieste venute fuori durante l'incontro, la pianificazione per tempo con i dirigenti degli istituti scolastici della borgata affinché la manutenzione degli edifici diventi un fatto usuale e non un'azione straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Pubblicità. Seconda parte del nostro telegiornale parliamo di Effetto Noto 2015. All'interno del programma estivo Effetto Noto 2015, sabato nel cortile di Palazzo Nicolaci si è svolto in tonaco sonoro, performance multimediale con Iuri Kamisaska, Raffaele Schiavo, Marco Accostato e Mario Rapisardi. Una performance nata spontaneamente che sancisce la fine del laboratorio sincretico della formula della mutazione, partito a gennaio di quest'anno su iniziativa di Mario Rapisardi nei bassi di Palazzo Nicolaci. Luogo in cui gli artisti protagonisti di sabato sono venuti a visitare la mostra e dove praticamente è nato in tonaco sonoro. Ispirato alle visioni di Anthony Arthoud è stata la volta di Iuri Kamisaska, voce e Armonium indiano che da 50 anni studia il linguaggio dei mantra. L'utilizzazione sincretica della formula KN. KN sta per K è la materia che ogni artista lavora con le proprie mani o con il proprio mezzo. L'N sono gli infiniti modi come l'artista o il creativo porta questa materia in un altro divenire. Quindi questa utilizzazione sincretica della formula tra me, Marco, Raffaele e Iuri Kamisaska è un modo per incontrarci perché cerchiamo la stessa cosa con mezzi diversi. All'interno di Effetto Noto un evento che può accontentare un target molto raffinato e molto di settore. Si tratta di un evento sincretico che emette una performance multimediale che mette insieme l'arte dell'artista visivo Mario Rapisardi, la musica di Iuri Kamisaska, la maestria di Marco Accossato e l'attore Raffaele Schiavo. Quattro artisti di grandissimo calibro che sperimentano attraverso appunto il suono, la parola e l'arte visiva e il suono, le vibrazioni delle campane tibetane sperimentano un nuovo linguaggio per una creazione che prende vita qui adesso a Palazzo Nicolà Sciannoto. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Grazie.